Musica Nel comune della Valle della Cupa, a Novoli, in occasione di festeggiamenti solenni, Sant'Antonio Abate, nell'ambito della rassegna all'artesa ardente Fogara 2022, organizzata dal comune di Novoli e dall'assessorato alla cultura, si è tenuto oggi presso il Teatro Comunale il convegno, il Salento, la sua terra, la sua gente, le sue tradizioni, attraverso il volo di Alacne. Presente lo stesso autore, pari Andrea Finiuno, che ai nostri microfoni ha dichiarato... È davvero un piacere e un onore essere qui a Novoli, nel Teatro Comunale, in questa favolosa cornice, nella quale appunto si svolgerà il convegno relativo alle tradizioni salentine al Salento. E quindi per me è davvero fantastico essere presente con il mio libro, peraltro è uscito poco più di tre mesi fa sul Salento, il volo di Alacne, che appunto attraverso la storia di una piccola rondine che nasce all'interno della cattedrale di Otranto, ripercorre tutto il litorale salentino e grazie a questo suo volo si può riscoprire una parte di Salento diversa e raccontata in maniera più leggera, quindi fruibile da parte di tutti. E' l'editore di Musicaos, Luciano Pagano, il quale ha elogiato l'amministrazione. Siamo molto felici di aver portato qui a Novoli, nel Teatro Comunale, con Musicaos editore in collaborazione con Inventiamo Aventi, supportati dal Comune di Novoli, dall'assessorato alla cultura, questo convegno che è dedicato al Salento, alle sue tradizioni, alla sua storia e in particolare alla sua letteratura, alla sua scrittura. Durante il convegno interverranno Simone Giorgino, critico letterario e poeta, autore di diversi volumi nei quali si sono analizzate le opere dei più importanti scrittori salentini. La seconda parte del convegno, importante, sarà dedicata a una nostra pubblicazione, Il Volo di Aracne, di Pierandrea Fanigliulo, che lui è giornalista, laureato in Scienze della Comunicazione e Economia del Turismo, ha saputo coniugare la sua professione, quindi un discorso di attenzione al territorio, con la narrativa, con il racconto, perché dalla vicenda dei protagonisti del suo romanzo divengono un pretesto per raccontare poi il territorio con le sue tradizioni culturali, con i suoi luoghi e quindi un discorso più ampio dedicato a tutta la terra e il territorio salentino. Grazie.